Dopo 18 mesi di sperimentazione, accogliendo le istanze di cittadini, residenti e commercianti, arrivano i primi correttivi decisi dall'amministrazione comunale sulle ZTL del centro e del mare. Si parte dalle preferenziali di Piazza Dante e Via Duomo, che diventeranno zone a traffico limitato ed aperte per l'intera giornata al transito dei motoveicoli. Confermate invece le ZTL centro antico e quelle di Tarsia e quartieri spagnoli, che insieme a Piazza Dante e Via Duomo saranno chiuse alle auto dalle 9 alle 18. Più isole pedonali, più aree in cui possono camminare le persone, possono usare anche mezzi alternativi alle macchine, quindi conferma del lungomare liberato, delle pedonalizzazioni, un rafforzamento nel centro storico e nei quartieri più ristretti come vicoli e strade della nostra città, ma abbiamo anche accolto dei suggerimenti che in questo momento ci sembrano significativi, soprattutto in un periodo in cui il Governo e la Regione hanno deciso di ridurre, ahimè, e ce ne doliamo, le risorse per il trasporto pubblico, dei correttivi che attengono soprattutto Piazza Dante e Via Duomo, dove passeranno i motorini H24 e si passa da una corsia preferenziale a ZTL 918. Le modifiche con le quali la Giunta ha voluto tener conto delle difficoltà del trasporto pubblico locale senza trascurare la vivibilità del territorio saranno operative al termine dei tempi tecnici richiesti per le variazioni ai varchi telematici. Tra le novità annunciate è anche la pedonalizzazione di via Tribunali e la sospensione della ZTL del Mare in via sperimentale dal 29 aprile al 30 settembre. Nessuna variazione è prevista per le aree di Piazza del Gesù e Mezzocannone, chiuse al traffico con orario prolungato. Noi togliamo, di questo ne sono particolarmente convinto, la cosiddetta ZTL Mare, cioè i due blocchi di Via Acton e Piazza San Nazaro. Piazza San Nazaro per consentire soprattutto ai nostri concittadini di fuori grotta e posillipo di giungere meglio verso il centro e Via Acton per chi viene soprattutto dalla provincia o dalla zona orientale. Dal prossimo autunno via anche alla riqualificazione del lungomare, dove la pedonalizzazione integrale di Via Caracciolo rimane legata alla riapertura della riviera di Chiaia. Il lavoro dell'amministrazione prosegue intanto per migliorare i trasporti pubblici, con 8 milioni di euro assegnati in dotazione all'ANM per la manutenzione degli autobus e la fruibilità degli spazi urbani attraverso concessioni di suolo pubblico che saranno subordinate alla riqualificazione dei luoghi. Abbiamo dato dei milioni ad ANM e dei milioni al Metronapoli affinché ci possano essere più mezzi pubblici, abbiamo invertito la rotta, da settembre a marzo spaventosamente diminuivano i mezzi pubblici su gomma perché non avevamo i soldi per fare manutenzione, da qualche giorno avendo trovato le risorse stanno uscendo nuovamente più pullman, per maggio dovremmo arrivare dai 270 ai 400 e arrivare a circa 550 a settembre, quindi un trasporto pubblico su gomma dignitoso. Riteniamo che la mobilità sostenibile è un percorso complesso e difficile che ha bisogno di trasporto pubblico e che anche qualche risultato positivo già ce l'ha dato. La centralina museo che era costantemente fuori legge è ritornata sotto i limiti e questo ci ha anche consentito, questo lo dico ai cittadini, di evitare blocchi del traffico continui come spesso in passato la città doveva subire proprio al caso del superamento costante delle centraline in termini di qualità dell'aria.